Da parte che c'è questo bai e menestri in séance, il leader di MAP non può lograre llegare a un altro, arriva il tema di segura per gli studenti che c'è studia in Holanda. E manatario organizza un destacco pubblico del quale un'compagnia di segura di Holanda ha gana e be. Sin embargo, l'opposizione ha questionato se il manatario tiene qualche famiglia envolvente o se il processo di destacco ha gana corretto. Asi, ghi cartana di pregunte e contesta del quale menestra Michelle Hoiburg assegura al parlamentare che non è e ne su casa non ha e ne conosce la compagnia di segura di Holanda. E lamenta si che Evelyn Waverta usa solo di Pueblo e Jam de Reuter come su fuente di informazione paga se pregunte nel governo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.